Ciao, sono Luca, il direttore tecnico della Stile Libero di Preganzioli. Di solito in questo periodo in segreteria è una gran festa. Ci sono i volontari dell'Advar con le uova e le colombe, i bambini portano i disegni a tema pasquale e ci facciamo tutti quanti dei grandi auguri calorosi. Ora stiamo lavorando invece da casa. Siamo sempre vicini a voi. Con il canale YouTube vi stiamo fornendo degli allenamenti da fare a casa per tenervi in forma. Seguitemi su Facebook con tutti gli aggiornamenti. Intanto ci stiamo preparando per tornare meglio di prima, più uniti di prima, più preparati di prima. Vi faccio tanti auguri di buona Pasqua e ci vediamo presto. Ciao a tutti, sono Andrea, mi vedete sempre in piscina. e non ci possiamo vedere, però adesso volevo augurarvi lo stesso una buona Pasqua. Ciao a tutti, sono Giulia della Stile Libero. Volevo augurarvi a tutti voi una buona Pasqua. Ciao a tutti, sono Giacomo, Sala Fitness. Volevo augurarvi una buona Pasqua e ci vediamo presto. Ciao a tutti, sono Gaia e volevo augurarvi buona Pasqua, sperando di rivederci presto a Bordovasca. Un abbraccio grande a tutti voi e alle vostre famiglie. Ciao, sono Mattia, assistente bagnanti e istruttore della Stile Libero. E volevo augurare a tutti quanti voi una buona Pasqua e ci vedremo molto presto. Ciao, sono Nura e volevo augurarvi una buona Pasqua e spero di tornare a cronometrarvi tutti il prima possibile. Ciao a tutti, sono Andrea della Sala Fitness, vi auguro una buona Pasqua e ci vediamo presto. Ciao! Ciao, sono Gianluca, istruttore alla Stile Libero di Preganziol e sono qui per augurarvi una buona Pasqua e soprattutto di rivedervi presto e più carichi di prima. Mi raccomando, nel frattempo mangiate poca cioccolata e soprattutto mantenetevi in allenamento con i nostri video. Ciao! Ciao, sono Silvia della palestra, sono trainer della Sala Fitness e dei corsi. Volevo augurare a tutti buona Pasqua. Ciao! Sono Paolo, con la speranza di vederci presto in piscina e in palestra, vi faccio i miei ui di buona Pasqua. Ciao, sono Zahira, maestra di danza del ventre. Auguro a tutti una buona Pasqua e tanta danza! Ciao, sono Daniele, mental coach dello Stile Libero di Preganziol. Vi auguro con il cuore tanti auguri di buona Pasqua a voi e a chi vi sta vicino in questo momento. Mangiate i dolci che più vi piacciono e ricordatevi di chi, seppur distante, sta attendendo con speranza i vostri auguri. Prendetevi cura di voi e della persona a cui volete bene. Buona Pasqua a tutti! Ai piccini ed anche ai grandi, da Deborah, buona Pasqua! Ciao, sono Stefano, l'insegnante di Teci. Vi auguro buona Pasqua e spero che riusciremo ad allenarci insieme quanto prima. Ciao a tutti! Volevo augurarvi una buona Pasqua e spero di rivederci presto tutti assieme alla Stile Libero. Ciao, sono Nicola, sono l'istruttore di Fitbox. Volevo augurarvi una buona Pasqua, serena a voi e a tutte le vostre famiglie. Ciao! Ciao a tutti, sono Luisa, insegno tonificazione alla Stile Libero di Preganziol. Vi auguro una buona Pasqua e vi aspetto più cariche che mai alle mie lezioni. Ciao a tutti! Ciao! Saluto a tutti gli utenti della Stile Libero e spero che ci potremo rivedere prestissimo sia in piscina che in palestra. Buona Pasqua a tutti e un bacio! Buongiorno ragazzi, un saluto a voi e a tutte le vostre famiglie. Ciao, sono Laura, addetta alle pulizie, mi mancate tutti, buona Pasqua, a presto! Ciao! Ciao ragazzi, vi faccio tantissimi auguri di buona Pasqua a voi e alla vostra famiglia. Speriamo di vederci quanto prima, intanto vi mando un abbraccio. Ciao, auguro a tutti voi e alle vostre famiglie una felice Pasqua. Un bacione da Già. Buongiorno a tutti i bambini e tutti i ragazzi. E alle vostre famiglie. Ci vediamo presto! Sono Luca Califano e volevo fare gli auguri a tutti gli utenti della Stile Libero e in particolare agli allievi con cui ho il piacere di lavorare. Buona Pasqua! Ciao ragazzi, sono Davide. Volevo augurarvi a tutti buona Pasqua e ci vediamo presto. Ciao! Ciao a tutti ragazzi, vi facciamo tanti auguri di buona Pasqua! Ci vediamo presto in vasca! Ciao! Tanti auguri di buona Pasqua! Ci vediamo presto! Ciao ragazzi, tanti auguri di buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie e arrivederci a presto. Ciao, Antonello! Ciao a tutti e tanti auguri di buona Pasqua! Ciao a tutti, sono Gabriele, istruttore della Scuola Nuoto. Speriamo di rivederci presto. Intanto vi faccio tantissimi auguri di buona Pasqua! Tanti cari auguri di buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie! Ciao, sono Silvio, istruttore nuoto Stili Libero e Cazzole. Un abbraccio forte a tutti. Buona Pasqua! Ciao a tutti, sono Fede. Un augurio di buona Pasqua va a tutti quelli che hanno condiviso con me i meravigliosi giorni in piscina, dagli adulti ai ragazzi, ai bambini e soprattutto ai bebè. Spero di vedervi quest'estate. Un abbraccio forte forte! Ciao! Buona Pasqua! Ci rivediamo presto! Ciao a tutti, sono Chiara e sarò la responsabile del mini campus, dei centri estivi. Volevo augurarvi buona Pasqua e ci vedremo quest'estate più carichi di prima. Ciao! Ciao a tutti! Vi mando un grande abbraccio con gli auguri di buona Pasqua e la speranza è di rivederci presto in Stile Libero. Ciao, sono Enrico, istruttore nuoto Stile Libero Preganziol. Noi vediamo tutto quello che sta succedendo come un'opportunità, un'opportunità per crescere sempre di più in tutti i modi possibili. Detto ciò, vi auguro tantissimi auguri di buona Pasqua! Auguri di una Pasqua serena a voi e alle vostre famiglie, la vita è istituzione della Stile Libero. Ciao, a presto! Ciao, sono Giulia, responsabile del settore pallanuoto della Stile Libero e vi voglio augurare con questo video una buona Pasqua insieme ai miei ragazzi e vi ricordiamo di rimanere sempre vicini, anche se distanti. Buona Pasqua! Buona Pasqua a tutti quanti da Alberto, ciao! Vi mando un abbraccio virtuale e auguro una buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie. A presto! Ciao ragazzi, auguro a tutti quanti gli auguri di buona Pasqua e speriamo di rivederci presto in piscina. Ciao a tutti! A casa accogliamo l'occasione per augurarvi una buona Pasqua. Ciao a tutti, sono Daniele, istruttore alla Stile Libero di Preganzion. Vi faccio i migliori auguri di una buona Pasqua e non vedo l'ora di rivedervi tutti quanti in Piano Vasca. Ciao a tutti e buona Pasqua! Dai che andiamo avanti! Volevo augurare a voi e a tutte le vostre famiglie una serena buona Pasqua. Un caro augurio anche da parte di Nonno Santoro. Perseveranza, pazienza e pratica. Chi dà? Auguroni! Grazie! 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 Grazie a tutti.